E' Laura, sì, è Laura, irriconoscibile, ma è lei. Forse è l'unica con i capelli lunghi. Ok, strizza anche il costumino, lì c'è. Pure le ciglia, strizza. E out, vai! Terzo naufrago è Roger. Che è tuffato ora. Passo del chepardo. Ok. Ragnatela, ondure, attenzione, attenzione. E si è tuffato dentro la vasca. Ed è pronto per essere strizzato da Licia di nuovo. Ok, parte del fango entra nella tinozza, parte invece non entra nella tinozza. E quando esce è pronto. Via! Quegli alti sono banniggiati. Sotto passo del chepardo per blind, arriva la ragnatela, difficile vedere. Gli occhi sono pieni di fango e di sabbia, attenzione. Si tuffa nella seconda vasca di fango, che è quella più vicina e prossima alla tinozza. Licia toglie addirittura quasi i pantaloni di... Toglie anche dei tatuati. Blind. Ma chi è lui? Blind. 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 Si. Sta strizzando con grande abilità. Via! La prossima ed ultima è Stefania. Vai, vai, vai! Go!